ho imparato come si dice buscia che è lo stop ho imparato come si dice parafuso che è la vite però ho imparato che qui ci si dice tutti i giorni buongiorno che è un'abitudine che vorrei esportare in Italia tante persone che lavorano insieme di discipline diverse di provenienze diverse di nazionalità diverse che riescono a fare tutto rispettandosi l'un l'altro senza accavallarsi anzi cercando continuamente una mediazione abbiamo rifatto gli impianti abbiamo rifatto pavimenti cose che rimarranno strutture che rimarranno nel tempo e rimarranno per le persone che vivono e che vivranno questo posto dopo che noi saremo passati non è sfruttamento di un bene di un territorio o di un valore ma è comunicazione tra due popoli e rispetto ho imparato che ci si può abbracciare quando si è molto felice di aver conseguito un risultato